Ilari Blasi a Saint Mortiz ha portato il nuovo fidanzato Bastian Muller, foto. Ilari Blasi in montagna non si è divertita soltanto con l'amica Michelle Unzichere e le loro bambine. Al suo fianco, come anticipato, c'era anche il suo nuovo fidanzato, Bastian Muller. La presentatrice esce allo scoperto e non pensa ai paparazzi in agguato, le foto pubblicate da chi testimoniano il lungo weekend infuocato a Saint Mortiz della 41N. L'imprenditore tedesco è arrivato il giorno successivo a quello della conduttrice e non ha alloggiato nel lussuoso 5 Stelle Sipiri e Rikulm. Ma all'hotel Kempinski, tanto per sviare tutti. Bastian, come racconta il settimanale, proviene da una famiglia di costruttori e si occupa dell'attività di famiglia. Il giornale mostra nero su bianco la Blasi e la itante compagno abbracciate sulle piste in un ristorante ad alta quota. Bastian ha raggiunto la presentatrice e Michelle sulle piste al Corviglia, insieme sono andati a pranzo all'hotel Salas Trains, dove l'Ari l'ha presentato alla Unseeker. Al termine della giornata tutti si sono mossi sulla caratteristica carrozza per tornare nei rispettivi alberghi. La Blasi riprendere a vivere, anche c'è chi giura che questa sia solo la sua vendetta dopo aver visto per mesi l'ex Francesco Totti insieme a Noemi Bocchi. Con cui ha persino preso una nuova casa a Roma Nord, su tutte le riviste rosa e non solo. Con cui ha persino preso una nuova casa a Roma Nord, su tutte le riviste rosa e non solo. Con cui ha persino preso una nuova casa a Roma Nord, su tutte le riviste rosa e non solo. Con cui ha persino preso una nuova casa a Roma Nord, su tutte le riviste rosa e non solo.